Noi siamo lo scientifico! Il nostro percorso è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e sapere umanistico. Scegliere il liceo scientifico significa scegliere un percorso che ti guida nella maturazione di competenze necessarie a seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. Il liceo scientifico ti permette di individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle relative metodologie, anche attraverso la pratica laboratoriale. Nei laboratori del Telesi, infatti, potrai sperimentare tutto quello che studi dai libri di testo, non solo nozioni ma anche tanta tantissima applicazione. Insomma, scegliere il liceo scientifico significa scegliere una formazione a 360 gradi che ti permetterà di intraprendere qualunque percorso universitario. Allo Scienze Applicate, però, facciamo l'informatica, a differenza vostra, che ci aiuta a sviluppare la logica e ci fornisce abilità di problem solving. Partecipiamo anche alle Olimpiadi di informatica ogni anno. Vabbè, che c'entra? Noi è lo scientifico tradizionale, non facciamo informatica, ma studiamo il latino. Ma non è una lingua morta? Mica vuoi incontrare qualcuno con cui fare una chiacchierata di latino? Vabbè, che c'entra? Mica studi il latino per andare all'estero, per fare conversazione con uno straniero. Studiare il latino fa parte della nostra cultura, delle nostre origini. Studiare il latino ti permette di acquisire capacità logiche che ti sono di aiuto anche nelle altre discipline. Però, da noi si fanno molto più rediscenze e questo è un grosso vantaggio per chi dopo il liceo vuole iscriversi in una facoltà scientifica. Forse questa è l'unica differenza che c'è tra noi, perché per il resto siamo uguali. Spesso il mondo ci ritiene due indirizzi, uno diverso dall'altro, ma non sa che siamo due gambe dello stesso corpo. Spesso il mondo ci ritiene un'unica club. Sapete www.suprotta.it Spesso il mondo ci ritiene di finestra, anche a altre situazioni si passa dentro.